Caricare la carta nel vassoio 1, vassoio multiuso Caricare la carta, carta intestata e prestampata Aprire il vassoio 1 Utilizzare il fermo di regolazione per allargare le guide della carta verso l'esterno Caricare la carta nel vassoio Accertarsi che la carta rientri nella linea di riempimento delle guide Caricare la carta nel vassoio Accertarsi che la carta rientri nella linea di riempimento delle guide Regolare le guide laterali in modo che tocchino leggermente la risma di carta senza piegarla Sul canale YouTube di HP Support sono disponibili altri video utili Grazie a tutti Grazie a tutti